Durbinosevic, Barsacardi, ve lo aspettavate, qualunque buona partita per voi? Sì, abbiamo saputo che Catti è venuto qui come un po' a Britto. Noi un po' di viaggi, non lo aspettiamo lì, tanto che andiamo a perdere, l'abbiamo preparato. Va bene, dobbiamo dimenticare questa partita e giocare la domani che abbiamo venuto per questo obiettivo. Aspettavate forse qualcosa di più oggi o a vedere? Va bene, sempre c'è, soppressi di tutto, ma abbiamo giocato come volevamo, è una vittoria meritiva da squadra Carpi, complimenti per loro, come ho detto, noi giocheremo la nostra partita domani.